Buonasera a tutti amici di Tommy Digital, ben arrivati in questo nuovo video a tema MFL. Di che cosa vi parlerò oggi? Oggi te lo seguo al video precedente in cui abbiamo visto come ho fatto ad ottenere 5000 MFL dopo un campionato con solo le due squadre in divisione 8. Come vi dicevo, nei prossimi video analizzeremo le mie squadre, di come le gestisco eccetera e di come è andato il campionato la stagione 0-7 per le mie squadre. Questa sera è il turno della mia squadra principale Inter Digital, quindi in questo video analizzeremo come sono andato, come sono classificato, come sono andati i giocatori, vedremo i giocatori, i moduli utilizzati e andremo a vedere qualche errore che magari ho commesso, che magari dovrò non rifare nella prossima stagione. Prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video a tema MFL o altri tipi di giochi digitali, e altri contenuti digitali. Se non siete iscritti a MFL lo potete fare, c'è il link qui sotto in descrizione che dopo l'acquisto di 3 starter pack otterrete un giocatore in regalo voi e un giocatore in regalo io. Ma non ci perdiamo in altre chiacchiere, diamo subito al video dopo la sigla. Eccoci qua all'interno della mia squadra, nella gestione della mia squadra Inter Digital. Allora, com'è andato questo campionato? Allora, diciamo che un po' la mano in bocca perché mi classifico terzo, ero primo fino alla terz'ultima giornata, poi praticamente mi sono andato due giornate proprio praticamente un po' male e quindi sono stato scavalcato e alla fine termino a solo un punto dalla vetta. Paris praticamente mi è stata dietro tutto il campionato e mi è riuscita a sorpassarmi proprio alla penultima giornata. Quindi terzo in classifica e ho ottenuto un bel punteggio. Andiamo a vedere nell'analisi direttamente del campionato della Stone League 19. E praticamente terzo in classifica sono 1500 MFL. Poi il totale ovviamente bisogna considerare anche i prestiti. Abbiamo visto nell'altro video quanti MFL sono riusciti a portare a casa, circa 800. In questa squadra l'ho strutturata per vincere, quindi squadra strutturata per vincere, i giocatori in prestito avevano circa il 50% degli MFL vinti, sono andati ai proprietari, agenti, giocatori che hanno militato nella mia squadra. E devo dire un campionato molto molto equilibrato. Fatto vari post tranne le ultime tre squadre, dove praticamente li abbiamo utilizzati tutti per fare un po' di turnover e praticamente con moduli semplici tipo 4-3-3-A, super offensivi eccetera, praticamente portavi a casa tranquillamente 6 gol. Infatti addirittura il Denverland ha subito 106 gol. Io penso che giocatori che hanno abbandonato addirittura Winnipeg ha subito una valanga di gol ma non faceva turnover, aveva giocatori scesi di energia al massimo. Gli altri siamo stati veramente tutti lì lì che bastava un passo falso per poter ribaltare la classifica. Quindi veramente è stato un campionato fighissimo, confiato in gola. Non c'è stato nessuno che ha dominato il campionato da solo. C'è stato per un po' Troklil che è stato primo. Poi dopo sono stato io che sono stato primo per 4-5 giornate consecutive. Cioè ci siamo veramente alternati, è stato veramente un campionato figo e veramente tirato. Poi come giocatori Mayer, il mio bomber Mayer, è stato praticamente capocannoniere quasi per tutto il campionato. È stato recuperato nonostante ha fatto una doppietta nell'ultima partita. Gli altri hanno recuperato altri due giocatori. L'hanno recuperato e quindi sono finiti tutti e tre primi con 24 gol. Devo dire sono veramente veramente soddisfatto. Questo giocatore è di proprietà di Jib Wilbert che sicuramente... Che sicuramente... No, Big Wilbert. Big Wil... Jig. Big Wilbert che è uno dei migliori giocatori del gioco. Già mi ha contattato e mi ha detto che gli farebbe piacere che io continuassi ad avere Mayer. Infatti già abbiamo trovato un accordo, addirittura mi ha fatto uno sconto di percentuale. Quindi rimarrà nella mia squadra anche per la prossima stagione. Quindi Mayer veramente top. Peccato per le prime partite perché ci sono stati degli accorgimenti. Adesso poi dopo ne parliamo quando andiamo a vedere le tattiche. Poi ci sono stati praticamente gli assist men. Che qua li chiama passatori. Gli assist men e qui Morrison. 13 assist. Morrison veramente... Veramente... Il proprietario è il mio amico Salvo. Veramente è una bomba. Ha un passaggio 84. Veramente... Questo fa veramente la differenza. Questo fa capire di quanto... Un esterno... Di quanto un esterno sinistro... Se abbiamo le punte che vogliamo che segnino tanti gol. Gli esterni giochiamo con un 4-4-2. Dobbiamo avere un esterno che ha questo tipo di caratteristiche qua. Io ho avuto due esterni sinistri veramente veramente forti. Lui è un altro giocatore che aveva il passaggio molto più basso. E aveva il tiro veramente veramente alto. E ho notato che quando giocava Morrison... Lui mi fa tanti assist. Ma Maier praticamente faceva tanti gol. Un'altra cosa che ho notato è che nel 4... Nel modulo 4-4-2... Se Morrison giocava alla sinistra... E molto spesso io ho giocato preferendo quella fascia. Perché lui aveva il dribbling e il passaggio alto. E quindi offendevo quasi sempre su quella fascia. Ne abbiamo parlato anche in altri video che abbiamo fatto in precedenza. Il giocatore Morrison-Meyer che è l'attaccante più forte. Non deve stare sul suo lato. E questo è stato un errore che non dovrò ripetere dell'anno prossimo. Ma deve stare dal lato opposto. Effettivamente se lui crossa le palle arrivano all'altro attaccante che sta dall'altra parte. Molto spesso io all'inizio lo mettevo vicino. L'attaccante più forte. Ma ho notato che segnava poco. Ma come è possibile? Un attaccante così forte che segna così pochi gol. Ho fatto il ragionamento del cross che arriva dall'altra parte. Gli ho invertiti ed effettivamente ha iniziato veramente a macinare tanti gol. Quindi occhio questa è una piccolezza che magari può fare la differenza. Questi sono gli assist men. Il portiere Naci che è il mio portiere che ha praticamente 65 di overall. Quindi neanche stiamo parlando di un top player. Ma lui è molto molto alto. 1,88 di portiere. E ha avuto una media di 6,96 classificandosi come secondo portiere. Quindi alla fine nella classifica generale rispecchia anche i giocatori che praticamente ci sono in squadra. Nelle tattiche utilizzate principalmente le tattiche utilizzate sono state il 4-4-2 come vi dicevo con Mayer a destra e Morrison a sinistra. Nella campagna acquisti nel mercato di praticamente di metà stagione è arrivato in un pacchetto Brugger che è veramente tantissima tantissima roba. E mi è arrivato anche l'attaccante Pinita che è tanta roba che fa la differenza, che mi ha fatto la differenza. Vi faccio l'esempio dell'altro esterno. Lui è l'altro esterno, dribbling alto, velocità alta, tiro 74 e passaggio 69. Io lui l'ho sfruttato anche se fuori ruolo, l'ho sfruttato praticamente nel 4-3-3 diff. Nel 4-3-3 diff io ho preferito sempre mettere Tong qui a sinistra perché ha il tiro molto alto. E infatti, infatti questo giocatore nonostante sia fuori ruolo mi ha segnato e ha fatto anche un bel po' di gol. Andiamo a vedere se riesco a vederlo performance. Tong praticamente in 12 partite, 5 gol e 3 assist. Veramente secondo me è un attaccante sinistro mancato. Quindi principalmente sono stati questi e alcune volte per ruotare un po' come vi dicevo nell'altro video, un bel 3-5-2 in cui passo a difesa 3 facendo riposare i terzini, avendo sempre Morrison super presente e Allen che praticamente è stato titolare per metà stagione finché non è arrivato l'altro esterno. Quindi questi sono stati principalmente i moduli che ho usato come tecnica, come tattica. Io non ho mai usato lo stesso schema, lo stesso modulo per tutte le partite. Ogni partita è stata analizzata cercando di trovare moduli con cui l'avversario andava di più in difficoltà. Quindi sempre cambiando modulo. Bene ragazzi, allora, come abbiamo visto, ci siamo fatti un bel giretto nell'Inter Digital, in una squadra che comunque mi ha dato tante soddisfazioni e a tante pene perché volevo vincerlo questo campionato. ero lì lì alla fine per poterlo vincere e alla fine ci sono bastate due partite sbagliate per praticamente passare i terzi a un punto. Quindi mi rimane un po' l'amaro in bocca, ma sono comunque soddisfatto perché comunque i giocatori hanno fruttato, hanno fatto quello per cui li ho presi. Morrison mi ha fatto gli assist, Maier su quelli su cui ho investito di più a livello di percentuale, l'attaccante forte e l'esterno sinistro forte, almeno gli esterni forti. Adesso che ho una squadra molto più solida, molto più equilibrata, non ho mai preferito concentrarmi tutto sull'attacco o tutto sulla difesa. Molto spesso quando scendevi in campo le statistiche erano sempre quasi equilibrate, quindi 68-68-68, 67-68-67 e così equilibrate. Ho fatto molto turnover, mai giocato con giocatori scarichi, sempre tanto turnover in modo tale da avere i giocatori sempre freschi dal 93 in su, facendo in questa maniera, analizzando le partite, analizzando l'avversario, moduli, avendo più scelte, tutto questo mi ha portato a terminare un campionato, comunque come terzo al mio primo campionato, e sicuramente il prossimo campionato andrà molto meglio, consapevole degli errori fatti in questo appena terminato. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like oppure un commento dicendomi come avete gestito la vostra squadra, venitemi a trovare pure sul gruppo Telegram, c'è il link qui sotto dove praticamente c'è un topic dedicato, anche se si chiama Soreri P, all'interno ci sono vari topic, c'è un topic dedicato a MFL, in cui si parla, si discute, ci si scambia giocatori, consigli, si mettono in vendita giocatori, eccetera, è un punto praticamente di una community italiana, di vari giocatori italiani che giocano a MFL, dove ci si può scambiare idee, si può fare amichevoli e quant'altro. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, per aver visto questo video, grazie mille, buonasera a tutti, Domi di Domi Digital. Grazie a tutti, grazie a tutti.